Salve ragazzi e amici del web, sono ancora io Andrea Bruni, in questo momento mi trovo nel Borneo, in Malesia, in una zona dispersa nella giungla, tuttavia vi è molta parvenza di civiltà, io sono stato in alcuni posti, per esempio nella Russia europea, i villaggi della Russia europea sono molto più arcaici e molto più arretrati rispetto a quelli che si trovano qui nel Borneo, sono dotati di tutte le comodità, ok la vita è quella semplice, quella più nostrana, qui non ci sono industrie, non ci sono divertimenti particolari, vi è una vita molto semplice, in questo momento mi trovo lungo un fiume, sono esattamente in una zona molto centrale della giungla, qui attorno c'è solamente foresta, però ho trovato questo piccolo villaggio lungo un fiume, ve lo voglio mostrare perché è molto caratteristico, adesso sono a cavallo della mia moto scassatissima e farò un giro giusto per darvi una panoramica, con un'idea, un'impressione emozionante, ecco qua, ecco qui abbiamo questo genere abitativo, abbiamo queste case che sono delle palafitte, passate queste case, abbiamo il fiume, tutto molto ordinato, preciso, a quest'ora non si vede nessuno, più avanti c'era un mercato, il mercato era gremito di gente, probabilmente è l'ora in cui la gente vanno al mercato a fare le compre, abbiamo tutta una serie qui di parafitte, qui abbiamo anche qualcuno, anche l'auto hanno anche il lusso di permettersi la macchina, eccoci qua, praticamente sono dei villaggi giardino, ecco qui non si può più continuare se non a piedi, quindi il mio giro finisce qui, mi porto lungo le rive del fiume, magari vediamo qualche coccodrillo, bisogna stare attenti perché ci sono davvero i coccodrilli qui, eccoci qua, qua c'è il fiume, è una vegetazione bellissima, ok con questa piccola view, con questa breve impressione di viaggio, vi saluto e continuate a seguire i miei clip video nel mio sito internet e ve la do io alla Malesia, ciao!